Grazie a tutti. Mi chiedono dove volevo andare e c'era il generale Ceruzzi allora che comandava la scuola. Dicevo, vorrei andare al terzo stormo a Torino perché era lo stormo da caccia più vicino a casa mia. E mi hanno assegnato il terzo stormo a Mirafiori. E in quel giorno che sono arrivato io c'era anche il comandante del diciottesimo gruppo, il maggiore Vossilla. E quando ha sentito, questi sono i piloti nuovi, eravamo in tre o quattro che eravamo arrivati. Vossilla dice, questo me lo prendo io, lo porto io a Mondoì. E mi ha portato con lui a Mondoì, tanto più che aveva l'arreoplano lì fuori, la famosa vacca, il K-133. Andiamo su Stareoplano per andare a Mondoì perché io, Scarone e altri due o tre siamo saliti perché il diciottesimo gruppo non era più lì. Era del terzo ma era stato trasferito perché sei squadrilli erano casino lì. E allora montiamo su Stareoplano, tu sediti là, al posto del secondo, metti in moto, decolla e poi prendi il comando tanto di bussola. Ma io non l'ho mai portato un trimotore. Dai dai, mantieni la bussola e andiamo lì. E mi ha portato a Mondoì, sono andato lì. Quello era il mio reporto. Mi hanno assegnato alla 85esima squadriglia, dove sono sempre rimasto fino all'8 di settembre. C'eravamo il capitano Anelli lì e abbiamo girato un po' tutti i fronti. Lì ho conosciuto Ruzzini, Mortolotti, tutti quelli che poi erano della 85. L'addestramento nostro era che avevamo due istruttori, si può dire. Cioè uno per l'acrobazia e uno che insegnava il finto combattimento. Ruzzini era addetto alla finta caccia. Mortolotti era addetto all'acrobazia. Ma lì, lì si faceva della gran finta caccia e della grande acrobazia. Finché è arrivato l'ora della guerra. Il nostro primo fronte era il francese. Siamo partiti su allarme due o tre volte per aerei sconosciuti su Genova. E allora ero l'ultimo arrivato della squadriglia e stavo sempre o dietro Ruzzini o dietro Bortolotti come gregari. Ma non abbiamo mai trovato da fare combattimento. Solo che sono arrivati gli ordini di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo fare dei mitragliamenti su dei campi da cazzo francesi. La prima volta che è partito tutto il gruppo per fare mitragliamento, una squadriglia arrestava sotto a protezione. Le altre due erano due a fare mitragliamento su questi campi da caccia. C'è andata bene, abbiamo fatto un mitragliamento, ma nessuno di noi ha visto un aeroplano incendiato. C'erano gli aeroplani sotto gli alberi messi dai francesi. Ci abbiamo sparato dentro tutti. E intanto quelli di scorta hanno fatto combattimento con i Devotein 520. Quando siamo tornati ogni pilota deve fare un verbale di cosa ha fatto, cosa ha visto, cosa non ha visto. E tutti hanno sparato, tutti hanno fatto, ma nessuno ha visto un incendio. Cioè siamo rimasti. È andata la ricognizione. Sì, avevamo sparato dentro delle sagome. Non erano tutti aeroplani, però il giorno dopo, alla stessa ora, siamo piombati su Istres. Lì li abbiamo trovati sul serio a terra. Per ora, a mezzogiorno, non se l'aspettavano. Fatto il mitragliamento, ne sono partiti tre dei loro. Se partivano tutta la squadriglia, ci tiravano giù tutto il gruppo. Perché avevano già un monoplano, cabine pressurizzate, canone da venti attraverso l'asse dell'elica, radio che funzionavano. È stato un combattimento lì sopra. Io non ho fatto combattimento perché ero giù a fare un intragliamento. Il capitano Anelli, che portava la squadriglia, che era quello che doveva portare giù i suoi piloti a fare un intragliamento, prima di andare giù, ha battuto le ali e ha girato via. Ma c'era qualcosa che non va a voler di compagnia bella. Ruzzini è passato in testa, ha portato lui la squadriglia a fare un intragliamento. E così l'abbiamo fatto. Quando abbiamo finito, torniamo, perché noi eravamo partiti dall'Albenga. Atterriamo dall'Albenga, che c'era la pista in cemento, l'unica pista in cemento che c'era. Come siamo atterrati, fermati i motori, il comandante, ma era con voi. Come era con noi? Sì, ma prima di entrare in combattimento, qui non è atterrato. Guarda l'orario, oramai non c'è più benzina, dov'è? Alle 5 è arrivata una telefonata, da Grosseto dunque. Siamo partiti dall'Albenga, siamo andati ieri, hanno fatto un mitragliamento, tornati indietro. Ha perso la ragione, come pensare che veniva dal bombardamento, quindi doveva intenderci. Vedi, ha proseguito, è andato a terrare a Grosseto. E a Grosseto parlava in francese, perché pensava di essere in Francia ancora. Allora avevamo tanti comandanti, ma ce n'erano pochi, c'erano all'altezza di dire, faccio che sono il comandante. Più di uno l'abbiamo accompagnato a casa, non io, Ruzzini e gli anziani tante volte. Mentre con la Repubblica c'era Visconti, che la sapeva lunga, ma lunga molto, più va il comandante, e sapeva cosa voleva. Grazie. 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 Grazie.